bentornati a entroterra condivide grazie per sostenerci aver visto il nostro video aver commentato e oggi vi spiegheremo come gestire i resti culturali dell'orto invernale oggi vi faremo vedere come gestire l'orto invernale dopo aver raccolto broccoli cavolfiori cappucci ci troviamo con un sacco di materia organica tutta la parte vegetale le foglie appunto da essere già stato raccolto il frutto e cosa farne ci sono molte scuole di pensiero sono molte correnti quello che noi stiamo sperimentando quest'anno è di trinciare completamente la parte aerea le foglie e lasciare dentro all'interno del suolo le radici inoculare siero di latte acidificato con dei teli creare le condizioni ottimali per accelerare la decomposizione e far sì che sia la parte aerea trinciata sia le radici apporteranno sostanze nutritive principi nutritivi al suolo ma soprattutto creare struttura e creare suolo anche perché cosa farne di tutti questi resti culturali c'è chi li estirpa e li porta a decomporre nel cumulo di compost ad esempio vedete qua tutto questo apparato radicale tutte queste radici si lasciate all'interno del suolo si decomporranno creando spazio per aria acqua lombrichi microrganismi insetti decomponendosi le radici creano le condizioni ottimali per la vita nel suolo all'interno dell'orto invernale quest'anno abbiamo anche provato con la coltivazione di questo broccolo da ricaccio viola bellissimo è molto buono si raccoglie il fiore principale e poi tutti i ricacci creeranno un bel bouquet di viola commestibile buonissima quindi tra le varie forme per poter trinciare i nostri resti culturali ci sono vari attrezzi noi stiamo utilizzando questo decespugliatore con una lama classica da rovi non avendo in questo momento un trincia né applicabile al decespugliatore né non abbiamo in questo momento un trattore abbiamo trovato che questa soluzione è quella che fa per noi insomma chiaramente utilizzando il decespugliatore ci troveremo comunque delle foglie intere dei pezzi di stelo ancora abbastanza grossolani ma vi faremo vedere come velocizzare il processo di decomposizione questa lama l'abbiamo trovata molto funzionale perché si può utilizzare sia trasversalmente sia da sopra quindi effetto trincia ci abbiamo messo circa 20 minuti per fare una fila di 70 metri quindi ecco chiaramente con la trincia da motocoltivatore sarebbe molto più veloce però questo che gli attrezzature che abbiamo al momento sono queste quindi si fa con quello che si ha dopo aver trinciato tutto rastrelliamo la materia organica nelle nostre aiole permanenti il bello di avere aiole permanenti e lasciare le radici all'interno del suolo che decomponendosi andranno a migliorare la struttura e tutta la sostanza organica che si decomporrà rilascerà principi nutritivi nel suolo ecco qua dopo aver trinciato tutto e se vedete sì ce n'è di sostanza organica che sarà poi rimessa in circolo questo deve pensare che sarà tutto decomposto e come creare un micro compost direttamente nella nostra aiole permanente quindi siamo pronti a partire ora con l'inoculazione e di lato bacilli e il siero quindi utilizzeremo il siero di latte acidificato per inoculare di lato bacilli i nostri resti culturali trinciati per acidificare il siero di latte basta lasciarlo a riposo in dei bidoni come questo una volta ogni paio di giorni scremare tutta la ricottina che la panna che viene in superficie si lascia acidificare per almeno due tre settimane ecco qui con il nostro siero di latte acidificato in modo più semplice e indolore anche per i lattobacilli nel senso che se vengono spruzzati con un atomizzatore la maggior parte i lattobacilli dei batteri muoiono quindi la cosa più saggia secondo me serve quella di inocularlo soltanto spruzzandolo sopra all'aiola così bene ragazzi va procediamo con il telo e copriamo la nostra crautiera vai con i crauti ragazzi cercate sempre di camminare nel passaggio in mezzo al passaggio dopo aver steso il nostro telo di insilato l'effetto sarà come quello di una crautiera vera e propria in cui i resti del broccolo del cappuccio si decomporranno più velocemente appunto grazie al siero di latte abbiamo utilizzato circa 200 litri di latte per coprire una superficie di 300 metri quadrati lo lasceremo decomporre dai due ai tre mesi in base a quanto velocemente la decomposizione avverrà nel momento in cui scopriremo i teli vi faremo vedere gli effetti benefici di questa tecnica in un altro video quindi ricordatevi di seguire il nostro canale mettere mi piace ma soprattutto commentare il video se avete qualche suggerimento siamo sempre disponibili a conoscervi installare un dialogo e alla prossima ciao